Panerai Submersible, eleganza e funzionalità Il Submersible è un orologio subacqueo prodotto dalla casa orologera italiana Panerai, nota per la sua tradizione di orologi militari e da marina. Il Submersible è una delle linee più famose e apprezzate di Panerai, che si caratterizza per la sua cassa robusta e impermeabile, la sua ghiera girevole unidirezionale e la sua struttura a corona protetta. La sua cassa, di solito in acciaio o titanio, è dotata di una ghiera girevole unidirezionale, in ceramica o titanio, che permette di calcolare il tempo di immersione con precisione e sicurezza. La ghiera presenta dei numeri e degli indici luminescenti, che facilitano la lettura anche in condizioni di scarsa luminosità. La cassa è inoltre provvista di una struttura a corona protetta, un sistema brevettato da Panerai che consiste in una leva che blocca la corona, impedendo l'ingresso di acqua e aumentando la resistenza all'acqua dell'orologio. La struttura a corona protetta è uno degli elementi distintivi del Submersible, che lo rende facilmente riconoscibile. Tra le complicazioni presenti nel Submersible, c'è la funzione cronografica visualizzabile su due subquadranti a essa dedicati con lancetta dei secondi centrale, la funzione cronografica flyback, che permette di misurare intervalli di tempo consecutivi senza dover azzerare il cronometro. Questa funzione è molto utile per i subacquei che devono effettuare delle immersioni multiple, o per chi vuole cronometrare più eventi in successione, e la funzione cronografica rattrapante. Un'altra complicazione presente nel Submersible è il datario con finestrella a ore 3, che mostra la data del giorno in corso. Il datario è una complicazione semplice ma utile, che permette di avere sempre a portata di mano una informazione pratica e quotidiana. Dal quadrante del Submersible è possibile visualizzare il contatore dei piccoli secondi a ore 9, che mostra il moto continuo del movimento. Il quadrante del Submersible è di solito nero, blu o verde. Il quadrante presenta delle lancette e degli indici luminescenti, che garantiscono una leggibilità ottimale anche nelle profondità marine. Il Submersible è un orologio che si basa su dei movimenti meccanici di alta qualità, che garantiscono precisione e affidabilità. I movimenti possono essere automatici o manuali, a seconda del modello, e spesso sono sviluppati internamente da Panerai, che vanta una lunga esperienza nel campo dell'orologeria. Il Submersible ha una resistenza all'acqua fino a 300 metri e ecco perché il Submersible rimane una scelta preferita per gli amanti dell'orologeria che cercano un'esperienza di lusso adatta alle profondità.